Grazie Faccio un passo avanti La numero 12 La numero 12 Sorridete ragazzi Siete in finale Faccio un passo avanti La numero 29 Le prossime tre Facciamo qui davanti Facciano sette passi Sì avanti Otto La numero 22 Le rimangono due posti disponibili Sette passi e un quarto Li deve fare la numero 18 Com'è la numero 18? Due, tre, quattro, cinque, sei Sette e un quarto Ne manca una Un posto solo disponibile Esatto È vero? Per la numero Sette